80 uomini e donne della Capitaneria di Porto di Pescara, coordinati dalla Direzione Marittima d'Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, sono impegnati fino al prossimo 18 settembre nell'operazione Mari Sicuro che da oltre 30 anni permette di vigilare solo a sicurezza di bagnanti, di portisti, subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago e sono sempre pronti a intervenire in caso di emergenza. Il comandante in seconda della Direzione Marittima, il Capitano di Vascello Marcello Notaro, questa mattina incontrando la stampa a Pescara, ha spiegato che i controlli riguardano anche la corretta applicazione dell'ordinanza regionale sulla sicurezza balneare che disciplina l'uso della spiaggia. La stagione balneare è fino al 18 settembre, la Guardia Costiera assicura la propria attività in tutto l'anno H24. La Direzione Marittima di Pescara ha competenza sia sulla Capitana di Porto di Pescara, di Termoli e di Ortona. Gli uomini impiegati solo a Pescara per quando riguarda l'attività mare sicuro saranno 80. Tali uomini sono spalmati nell'impiego sia in pattuglie terrestri che su battelli minori e su unità superiori. In questo primo fine settimana è stato fatto un controllo a tappeto di tutti gli stabilimenti balneari affinché si verificasse che avessero il cosiddetto bagnino d'assistente per i bagnanti nella propria postazione. Questo è il primo baluardo per la sicurezza. È vero che già questa settimana hanno dato assistenza appunto a dei bagnanti che si erano trovati in difficoltà. A mare ovviamente al di là per esempio del 300 metri destinati alla balneazione vigilano i battelli, i battelli leggeri, veloci che verificano prima di tutto il posizionamento corretto delle boe rosse che delimitano i 300 metri e impediscono alle imbarcazioni di invadere quest'area destinata solo alla balneazione e poi vigilano pure sulla corretta condotta dei diportisti. Vengono sempre invitati a verificare le dotazioni di salvataggio a bordo e di verificare anche le condizioni meteorologiche prima di prendere il largo. Il numero per le emergenze in mare è il 1530 che è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e consentirà di contattare tempestivamente la guardia costiera che grazie al suo personale altamente qualificato è in grado di fornire soccorso e assistenza in qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo in mare. E dal primo luglio e per tutta l'estate nel corso della rassegna stampa di Reteotto ci saranno i consueti collegamenti con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Pescara.